Buon pomeriggio, mi trovo presso la pettineia Lora Buca di Castellarano in compagnia di Roberto Paglia che è uno dei soci fondatori di questo progetto start-up in cui effettivamente possiamo dire che anche il credito Luca Tivorgiano ha creduto e al terzo anno mi raccontavi prima nel backstage di questa intervista che comunque ci sono degli ottimi risultati, degli ottimi feedback, è giusto? Racconta un po' ai nostri ascoltatori quello che è il progetto, come è nato quindi tu ti sei in un certo senso rilanciato in un'altra attività, in un altro progetto che ti viene a tutta altra realtà editoriale e lavorativa per arrivare qui e ricordare appunto questa idea imprenditoriale, giusto? Esatto, io quasi anni fa ho deciso di cambiare vita perché abitavo a Renzo e non piacendo quella vita lì sono ritornato a casa e mi hanno dato l'opportunità di poter comprare questa piatineria e allora l'ho presa la porta al volo e siamo qua da quasi tre anni perché il 20 di agosto facciamo tre anni e come posso dire, tanta affluenza, giusto? Sì, non ci possiamo lamentare perché comunque la gente l'abbiamo di tutte le età dai ragazzini con le famiglie fino ai signori più anziani Avere puntato molto sulla qualità Soprattutto la qualità perché secondo me senza qualità adesso come adesso non si può non si può competere perché ci sono altri locali che hanno veramente, veramente alta qualità e noi nonostante facciamo piadine che se vuoi è un alimento abbastanza povero però la roba che c'è dentro deve essere molto di livello E un occhio anche particolare al prezzo, all'economicità Sì, perché diciamo che dalle nostre parti secondo me ci deve guardare anche la qualità ma anche il prezzo perché in un momento di crisi così non si può non guardare il prezzo Quindi da un esempio di imprenditoria giovanile vincente credo che praticamente già non poteva ovviamente non cogliere, non ascoltare questa voce e così è stato e addirittura adesso la pedinina di Algorabucca fa parte, rientra nelle promozioni esclusive dei soci con una promozione loro dedicata molto stiziosa, ce ne puoi parlare? Sì, abbiamo pensato a una, io e la mia socia, la Camilla, che è sottotitura E Santiano, ciao Camilla, Santiano è la tua moglie Esatto, la mia moglie Perché c'è una mia collega, ovviamente, sua moglie Sì, è la mia famiglia che è a casa in maternità e abbiamo pensato di fare questa promozione che ai soci che regaliamo ogni due piadine che acquistano e noi regaliamo una a piacimento Perfetto Una piacere come vogliono Benissimo Dolce, salata Io adesso ho quell'angorino, questi profumi qui dentro sono entrata Con l'angorino Adesso chiudiamo l'intervista, ringraziamo tutti Mi raccomando, via deniria Lora Bucca a Castellaranda, Roberto e Camilla Esatto Come la nostra banca? Una banca così Ok